capitolo 9 zampilla il primo sangue se non avete mai dovuto correre attraverso una sala giochi inseguiti da polli assassini volete fare cambio per un po perché giuro siete i benvenuti nella mia vita quelle bestiacce erano piccole ma veloci spietate e sorprendentemente forti presero d'assalto il salone in una fiumana di piume e artigli distruggendo altri mobili disperdendo clienti e facendo svettare i punteggi sulle piattaforme di dance dance revolution per tutto il tempo gli occhietti feroci rimasero fissi su di noi mentre becchi e artigli scintillavano come acciaio tirato a lucido avevo sentito storie di persone che organizzavano combattimenti tra galli e applicavano addirittura delle lamette agli speroni dei poveri pennuti perché provocassero ferite ancora più gravi la gente è capace di cose orribili ma queste galline erano persino più spaventose erano macchine da guerra al naturale e sembravano decisamente apprezzare il loro lavoro le mie gambette da bambino di otto anni non erano all'altezza di quell'inseguimento non ero mai stato un gran corridore e in quel momento non riuscivo a tenere dietro ad annabeth e grover sbrigati si voltò a gridarmi annabeth come se non ci avessi già pensato da questa parte si lanciò verso una struttura ricreativa fatta di grossi tubi di plastica per strisciarci dentro volevo chiederle quale fosse il suo piano ma ero già senza fiato prendete quel tavolo svelti indicò un tavolino alto di quelli intorno a cui si sta in piedi per socializzare a una festa chic o roba del genere mi ci volle solo un secondo per capire a cosa serviva avevamo vissuto così tante avventure insieme che ormai rimanevo indietro soltanto di qualche passo non più di giorni rispetto ai processi mentali di annabeth grover afferrò la parte alta io il piedistallo della base era pesante io non ero forte neanche la metà di un pollo feroce ma riuscimmo a trascinarlo fino all'ingresso della struttura annabeth si tuffò nel tunnel per prima poi io e grover la seguimmo tirandoci dietro il piedistallo come se stessimo tappando una bottiglia il piano circolare del tavolo era abbastanza grande da bloccare l'ingresso impedendo l'accesso alle galline l'attimo successivo lo stormo si schiantò contro la struttura facendo tremare i tubi di plastica le galline schiamazzarono indignate ma per il momento eravamo salvi quanto ci metteranno a capire che ci sono altri modi per entrare nel tubo chiesi non molto gli occhi di annabeth brillavano di concentrazione vedevo che era ventata però sapevo anche che lei viveva per quelle situazioni quando rifletteva su come uscire da un frangente impossibile dava il meglio di sé ed era un bene perché tendevamo ad averne molti di frangenti impossibili ma perché dei polli brontolai di tutti gli animali esistenti al mondo preferiresti forse dei giaguari mi domandò annabeth è per via dei templi di ebe intervenne grover mordendosi una nocca alle sacerdotesse tenevano sempre galline e pulcini i galli invece stavano nel tempio di ercole venivano messi insieme solo nel giorno sacro a ebe oh giusto si ricordò annabeth quando ercole diventò immortale ebe lo sposò mi dispiacque quasi per lei aggiunse con un brivido aspetta un attimo feci io grover come fai a conoscere questa storia di galli e galline asilo nido rispose lui mesto ebbe finanzia asilo nido per giovani satiri ogni mattina cantavamo il gioioso inno ave pulcino improvvisamente elaborai una nuova teoria sul perché i satiri invecchiassero a velocità dimezzata rispetto agli umani ma decisi che non era il momento adatto per discuterne sei un membro del consiglio dei satiri anziani non potresti chiedere ai polli di ritirarsi gli suggerì posso provarci e belò qualcosa in gallinese le galline si avventarono contro la struttura con maggior violenza un becco d'acciaio forò la plastica tra le mie gambe direi che un no constatò grover il giorno sacro a ebe rimuginava annabeth intanto pulcini aggrottai le sopracciglia a cosa stai pensando a qualche diversivo non ho galli a portata di mano no ma nel pollaio c'erano dei pulcini e allora gridai mentre un altro becco quasi mi faceva un piercing alla coscia allora dobbiamo tornare al pollaio e prenderne uno groverino ridì delle galline killer ci inseguono e tu puoi andare nel loro pollaio e rapire un piccolo sì e poi ci rimettiamo a correre annabeth sollevò le mani come a difendersi persi lo so che dirai che è una pessima idea è una pessima idea ma devi fidarti di me andiamo strisciò più in profondità nel tubo brontolai a mezza voce e la seguì per quanto detestassi il piano non ne avevo uno migliore da proporre e di lei mi fidavo ciecamente il tunnel saliva tanto che a un certo punto ci trovammo a strisciare sotto il soffitto diedi un'occhiata da uno degli oblò di plexiglass e vidi che la maggior parte dello stormo imperversava ancora intorno alla base della costruzione strepitando di rabbia alcune galline le più intelligenti avevano capito che ehi erano dotate di ali quindi si scagliarono in volo sui tubi altre si posarono sulla cima sferrando beccate alla plastica ma fino a quel momento nessuna aveva ancora capito come arrivare a noi giungemmo a una biforcazione a t grover tu vai a sinistra ordinò annabeth distrai le galline mentre io e persi andiamo a destra e torniamo di nascosto al pollaio ci rivediamo al bar karaoke posso dire anch'io che è una pessima idea piagnucolò grover tu fai del tuo meglio lo incoraggiò annabeth sei quello che corre più veloce e sei anche l'unico che parla gallinese tecnicamente il gallinese non è una lingua vera e propria precisò il satiro anche se molti dialetti animali gli somigliano molto amico tu gridagli addosso e basta suggerì conosci qualche insulto per polli siamo in un centro divertimenti per famiglie dove stanno cercando di ucciderci per esserci lamentati giusta osservazione ammise grover proverò con gli insulti mi sgusciò accanto e strisciò giù per il tunnel di sinistra con gli zoccoli che si muovevano come pistoni andiamo ordinò annabeth con la sua miglior voce da leader e imboccammo il tubo di destra scendemmo giù da uno scivolo a forma di cannuccia pieghevole e finimmo in una vasca piena di palline che per una fuga rapida non era il massimo fortunatamente le galline erano occupate altrove all'estremità opposta della struttura grover era emerso in tutta la sua gloria di insulti e stava correndo in mezzo alle postazioni di ski ball lanciando dietro di sé palle di legno che facevano inciampare le galline e le obbligavano a zigzagare mi ricordò un qualche mito in cui una donna scagliava mele d'oro alle sue spalle per rallentare i propri inseguitori però sembravano funzionare piuttosto bene anche le ski ball urlò grover a giudicare da quanto lo stormo si infuriò doveva essere stato un commento feroce sulle madri dei pulcini grover scomparve nella sala giochi seguito dalla maggior parte dei pennuti stammi dietro annabeth navigò tra le palline con le mani sopra la testa come a impedire che un inesistente fucile si bagnasse nel frattempo io tenevo pronta la mia penna a sfera che immagino sarebbe stata utilissima se le galline avessero deciso di chiedermi un autografo qualunque azione ti venga in mente non fare del male alle galline mi ammoni annabeth sono pur sempre gli animali sacri di ebbe sarà la mia priorità assoluta borbottai non fare del male ai polli dico sul serio ribadì funzionerà solo se non faremo arrabbiare ebbe ancora di più non sapevo quale fosse il piano di annabeth o come avrebbe funzionato ma potete archiviare la cosa nel fascicolo non ho idee migliori che era già piuttosto corposo annabeth uscì dalla vasca delle palline e mi tese una mano vorrei poter dire che ne uscì con grazia non fu così scossi via una decina di palline di plastica dai risvolti dei pantaloni troppo grandi e raschiai un cheeseburger mezzo masticato da una suola mi chiesi cos'altro si sarebbe lentamente trasformato in combustibile fossile sul fondo di quella vasca probabilmente un pugno di semidei che avevano osato presentare un reclamo basato sull'età al pollaio disse annabeth senza esitazione e partì di corsa anche a otto anni aveva più risolutezza di quanta ne avrei mai avuta io il che avrebbe potuto darmi fastidio se avessi avuto l'energia sufficiente a concentrarmi su quel pensiero trovammo i pulcini esattamente dove li avevamo lasciati non sembravano contenti di essersi persi la caccia quando sparchi aveva scatenato i predatori a quanto pareva aveva attivato un comando che riduceva l'altezza della recinzione metallica esattamente della metà bassa a sufficienza da consentire alle galline adulte di saltarla ma troppo alta perché i pulcini potessero superarla supposì che fosse la versione ebesca di un cartello di avviso davanti a una giostra per uccidere i nostri clienti devi essere alto così annabeth studiò i pulcini che correvano in cerchio calpestando la paglia e lanciando verso di noi insulti intraducibili quello che avevo notato in precedenza con la lanugine rosa intorno agli occhi al becco sembrava particolarmente arrabbiato pigolava con tutta l'aria che aveva nei polmoncini speriamo di riuscire a catturarne uno mormorò annabeth prima che potessi dire per una ragazza saggia come te non mi pare una mossa particolarmente saggia lei era già dentro il pollaio aia baby killer le aveva beccato un dito ed era rimasto attaccato annabeth tirò indietro la mano scrollando il soffice pulcino come un calzino che rimane appiccicato per l'energia statica ma baby killer teneva duro ricordati di non fargli male le rammentai suggerimento utilissimo brontolò lei mentre il sangue le gocciolava dal dito strinse la mano libera intorno al pulcino tenendolo contro il petto in modo che non potesse scappare e dando per scontato che prima o poi si sarebbe stancato del sapore di carne umana via al karaoke uno è sufficiente chiesi se sei invidioso puoi prendere questo è carino per essere un pollo killer dall'altra estremità della sala giochi giunsero un improvviso ruggito di clienti che applaudivano uno stormo di galline che strillava e un satiro in preda al panico che gridava sto arrivando avevo dimenticato troppo in fretta le galline sacre che volevano farci a pezzi ci lanciamo verso il bar karaoke anche se con le mie baby gambe era più un procedere a papera non ebbi nemmeno il tempo o l'energia per far esplodere la piscina dei tuffi mentre ci passavamo davanti grover raggiunse la sala nel nostro stesso istante aveva piume attaccate alla pelliccia e il retro della camicia era tagliuzzato come se si fosse rotolato su un materasso decisamente pericoloso è stato divertentissimo ansimo aprite le porte disse annabeth io e grover afferrammo i grandi pannelli di mogano e iniziamo a farli scorrere non capivo bene perché l'area karaoke avesse un divisorio forse per proteggere il resto dell'ambiente dalla musica oppure per creare uno spazio privato per eventi come feste di compleanno o interrogatori molto intimi avevamo appena richiuso le porte quando le galline andarono a sbatterci contro schiamazzando indignate i pannelli di mogano tremarono e scricchiolarono temetti che non avrebbero resistito a lungo sotto quell'assalto furioso e adesso chiese grover ansando per riprendere fiato aveva l'aria così giovane e terrorizzata che mi sentì terribilmente in colpa per aver messo un bambino come lui in quella situazione poi mi ricordai che anch'io ero un bambino come lui ora viene la parte difficile annunciò annabeth perché questa è stata facile replicai con una smorfia annabeth si strappò baby killer dal dito e lo mise a terra il pulcino arruffò le piume macchiate di sangue ci guardò con gli occhietti neri lucidi fece un pigolio compiaciuto del tipo sì è meglio che tu mi metta giù e si allontanò becchettando tutto contento le briciole di pizza dalla moquette annabeth si avvolse un tovagliolo intorno al dito ferito questo bar è il tempio di ebbe giusto il suo sancta sanctorum solitamente non associavo quei termini ai bar karaoke ma a noi e allora nei giorni sacri a ebbe i supplicanti andavano al suo altare continuò annabeth esatto confermò grover imploravano il suo perdono ed ebbe dava loro rifugio ma questo non è il suo giorno sacro giusto chiesi io figurati se siamo così fortunati probabilmente no convenne annabeth però dobbiamo provarci le porte tremarono ancora curvandosi sotto il peso dello scatenato pollame grover fai quello che puoi per barricare le porte disse annabeth io e persi cercheremo la canzone giusta canzone domandai costernato non stai parlando di un duetto stile shallow vero no parlo di una canzone di scuse testa d'alghe imploriamo il perdono di ebbe non appena compare chiediamo rifugio è una seconda possibilità e se rifiuta annabeth guardò baby killer allora auguriamoci che funzioni il piano pulcino altrimenti